Il 23esimo premio Vittorio Viviani è stata un'occasione importante di trovarci finalmente in presenza per vivere non solo quelle che sono le bellezze dell'arte, le bellezze delle varie proposte dei vari artisti, ma è anche quello di vivere le emozioni finalmente dal vivo finalmente in presenza. È un'occasione, dicevamo come si è stato detto, 92 artisti che si sono presentati perché è bello che così tante persone provenienti da diversi luoghi dell'Italia, infatti ha vinto un sardo, un siciliano, una padovana, persone che arrivano a diversi punti d'Italia e in questo momento, in questa rassegna, in questo premio. La città di Nova è fiera e ringrazia davvero, io a nome di tutta la città ringrazio la LAP, ringrazio la Fondazione Rosso, ringrazio Arci che anche ha sostenuto il premio Città di Nova perché è un momento in cui noi ci si trova, in cui l'arte a Nova dimostra una volta di più di quanto nuova sia città d'arte. Quindi davvero grazie agli artisti e grazie a chi ha organizzato, davvero a tutti.